Ecco, sono anni di cambiamento non solo per le piccole, mini, grandi imprese, anche se noi ci occupiamo delle prime due questa sera, ma sono anni di cambiamento anche per Cene a Bergamo. Sì, assolutamente, stiamo veramente cercando di cambiare. Prima di tutto la nostra mentalità per essere sempre più vicini alle imprese e quindi accompagnarle nel loro percorso che è sempre più difficile e quindi dobbiamo proprio essere preparati, pronti e sempre aggiornatissimi per rispondere alle loro esigenze. E per questo anche stiamo approntando una nuova sede a Gorle dove ci trasferiremo e lì stiamo ristrutturando proprio tre piani in una palazzina dove concentreremo tutti i nostri uffici che erogano servizi ma dove soprattutto terremo i corsi di formazione e assisteremo le imprese, le nuove imprese per lo start-up e le imprese tradizionali che da sempre noi seguiamo. Abbiamo in fatto di cambiamenti anche la nuova testata che si chiama appunto Che Impresa proprio perché per noi l'impresa è al centro del nostro lavoro e di tutte le politiche che noi portiamo avanti sia a livello provinciale, regionale e nazionale.